Ciao a tutti, sono Emiliano Candida, qui con me c'è Francesco Mascio, siamo nella residenza Thalia del Jazz Festival 2017 a Feltre, bellissimo posto. Presentiamo il nostro nuovo disco che si chiama Jagge e adesso eseguiremo Buffalo Sodius di Bob Marley nella nostra rivisitazione che è contenente nel disco. Grazie a tutti. 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 Buongiorno. 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 Buongiorno.